La storia è il punto di partenza. L'innovazione è la nostra filosofia. Ridefinire eleganza e tecnologia per creare qualcosa di unico. Benelli, rimanendo fedele alla sua tradizione, ha mantenuto questa promessa ancora una volta. Il primo sovrapposto nato dall'ispirazione e dall'innovazione Benelli. 828U Con un cuore d'acciaio in una bascula d'alluminio, rompe gli schemi e cambia le prospettive. Più leggero, più veloce e più equilibrato, sinonimo di solidità e potenza. Il nuovo sistema brevettato di chiusura include una piastra in acciaio progettata per minimizzare le sollecitazioni derivanti dalla pressione dello sparo sulla bascula e sui perni di rotazione. Il sistema di espulsione dell'828U è tutto contenuto nelle canne. Quando la cartuccia viene sparata, la pressione attiva l'espulsore. Questo sistema innovativo elimina ogni collegamento tra il gruppo scatto e la stina, consentendo la realizzazione di una bascula più robusta e armoniosa. A differenza dei tradizionali sovrapposti, nell'828U il riarmo avviene tramite la manetta di apertura. Ciò fa sì che non ci sia interazione meccanica tra il gruppo canne e la bascula e consente inoltre un'apertura costante nel tempo. Un gruppo scatto compatto, facilmente rimovibile, aumenta la sicurezza e l'affidabilità, offrendo un facile accesso per la pulizia. Benelli ha creato il primo sovrapposto che consente di modulare il calcio a misura del cacciatore. Con 5 pieghe e 4 deviazioni, può essere regolato in 40 combinazioni possibili. Il calcio regolabile permette di trovare il proprio allineamento naturale tra la linea di mira e il bersaglio. Il sistema brevettato Progressive Comfort è inserito nel calcio in legno dell'828U. Il meccanismo si attiva in maniera graduale in base alla grammatura delle cartucce utilizzate e riduce in modo sensibile non solo il rinculo per il primo colpo, ma anche per il colpo successivo. Un fucile dal carattere tipicamente Benelli, dal momento in cui lo imbracci al momento in cui lo apri. Dal calcio alla canna, l'828U è stato totalmente ripensato e innovato. La tradizione Benelli, nel ridefinire l'evoluzione del fucile, continua. Benelli 828U Più avanti da sempre